Passa, sono letteralmente i dominatori delle corse di un giorno E quello che è successo è che si sono portati in testa al gruppo Prima Stibar e poi Gilbert, credo in quest'ordine, ma forse mi sbaglio Insomma è relativamente poco importante E hanno imposto un ritmo altissimo alla corsa Un ritmo veramente insostenibile per tante, per tutte Praticamente le ruote veloci, pure ruote veloci Di come avevamo parlato qualche settimana fa È un ritmo che nessuno è riuscito a seguire Che ha visto un volenteroso, ma evanescente, poi Bettiol Provare un attacco verso la metà della scalata del Poggio Finché non è stato letteralmente risucchiato dalla azione prorompente ed esagerata di Alaphilippo Ripeto, 5 minuti e 50 secondi È un tempo che non si vedeva da 25 anni sul Poggio È migliore anche di quello fatto da Sagan Alaphilippo e Kwiatowski Nel 2017 quando già fecero tantissima differenza e fecero i buchi per terra In buona sostanza sull'asfalto con la loro scalata Specie Sagan appunto E Alaphilippo ha fatto il Sagan, ha fatto il Bettini Cioè ha vinto la corsa correndo assolutamente da primo protagonista Cioè ha promosso l'azione decisiva È andato a chiudere Quando Moric negli ultimi 600 metri, come ho detto, sembrava avvantaggiarsi Potersi avvantaggiare, poter tentare un attacco che spesso e volentieri riesce anche In un arrivo come quello di Via Roma E poi veramente questa volata incredibile È una volata in cui io sono sorpreso tutt'oggi Perché è veramente stato un capovolgimento di valori Impensabile onestamente a 3 km dal traguardo Cioè prima della fine della discesa del Poggio È stato un capovolgimento di valori che va però pesato Sposta tanto l'ago della bilancia Ci fa parlare di capovolgimento di valori Secondo me la presenza di Sagan Valverde è un corridore fenomenale Lo spunto veloce di Valverde chiaramente non lo scopriamo nel marzo del 2019 Però ci può anche stare che è un corridore stagionato E non vuole essere un'offesa per Valverde Abbia un colpo che gli muoia in canna Alla Filippe è un corridore che evidentemente ha anche questo numero E non lo ha fatto vedere soltanto alla Sanremo Ma lo ha fatto vedere anche nei giorni precedenti Ha vinto una volata a Pomarance Ha vinto una volata a Foligno E abbiamo Oliver Nesen Di cui si parla Abbiamo parlato anche noi tanto di Oliver Nesen Perché oltre ad avere le caratteristiche classiche del passistone A termine riduttivo Ma che vuole disegnare di fatto chi Nei scenari del nord riesce a macinare il chilometro in un determinato modo Oliver Nesen è un corridore dotato di un grande spunto veloce Due circostanze Gran premio di Poulet Gran premio di Francoforte dell'anno scorso Un corridore che è in volata fa bene È dotato anche di spunto veloce Abbiamo poi Kiatkowski che non è un corridore fermo in volata Quindi capovolgimento di valori noi parliamo in questo senso Soprattutto per la presenza di Sagan Più per la presenza di Sagan che per quella di Trentin Per il semplice fatto che Trentin è un'altra ruota veloce Ma era una ruota veloce che si presentava con lo sprint a mezzo servizio Quindi a mezzo servizio perché chiaramente ha tentato un attacco Secondo qualcuno scriteriato Adesso ci arriveremo Secondo me solo a metà si può parlare di copolgimento di valori È una volata che anche ci sta Sulla volata io direi che Secondo me in realtà quest'ordine scelerato Per quanto riguarda quello che ci si poteva attendere Relativamente ai valori in campo Nel contesto appunto Di quello che dovrebbe essere una volata È abbastanza frutto del caso Nel senso che Sagan e Trentin se la sono giocata male Ed erano i due corridori più veloci Arafilip ha fatto una volata al di sopra delle righe Ma io non considero Arafilip meno forte di Valverde in volata Valverde è arrivato Credo abbastanza Cotto alla fine Per il resto abbiamo avuto Nesen Chiatkowski Sinceramente ci si poteva aspettare qualcosa di più Da Van Aert forse in volata Perché come dice giustamente Giacomo Van Aert È uno che ha anche un certo spunto veloce Ripeto per me quella era una volata Che Sagan avrebbe potuto vincere tranquillamente Se se la fosse giocata in maniera Almeno decente Perché l'impostazione della volata di Sagan è stata indecente Però attenzione Però attenzione perché Quando parli di Arafilip e Valverde Secondo me bisogna stare attenti a non cadere in un grande equivoco Non è un momento utile per confrontare i valori assoluti dei due corritori Secondo me occorre contestualizzare molto alle fasi di carriera in cui i due si trovano No parlando di valori assoluti in volata Io non sto parlando di valori assoluti a tutto tondo Ma i valori assoluti in volata secondo me vanno anche contestualizzati al momento della carriera in cui si trovano Se è vera la teoria della bettinizzazione di Arafilip di cui parla Giacomo Secondo me è anche spiegabile quello che è accaduto Si trova in un momento della carriera Arafilip in cui può essere considerato anche massimo quello che può dare in volata Valverde si trova in un momento più amante in cui lo spunto veloce può anche essere ridotto rispetto al passato E quindi se applichi questo peso alla volata di sabato Partiamo da un presupposto Bettinizzazione di Arafilip non significa che Arafilip è diventato Bettini Detto ciò questo Arafilip è in volata sicuramente più forte di qualunque altro Arafilip Noi abbiamo potuto vedere negli anni passati E sicuramente Non sicuramente ma per come io la possa vedere Non è un corridore inferiore a Valverde in volata Anche forse al Valverde delle ultime stagioni Che comunque è stato un corridore forte Bettini rispetto a Valverde in volata era più forte indiscutibilmente Secondo me poi arriverà Giacomo magari a darmi le bacchettate sulle mani No no non saprei Penso che innanzitutto sia dovuta una spiegazione su cosa intendo Visto che avete parlato di me del fatto che io dico che si sta Bettinizzando Cioè l'idea mia In realtà questo è un fatto suffragato dai fatti o almeno dalle opinioni Che però sorgono al ruolo di fatto in questo caso Cioè Arafilip era un corridore che si considerava il favorito numero uno Del mondiale di Innsbruck non più tardi di sei mesi fa Questo non lo dico io È appunto un fatto Era opinione comune se non altro questa cosa Una corsa di 5.000 metri di dislivello Noi lo abbiamo visto non più tardi di oramai una settimana fa Non riuscire a essere a livello dei migliori sui muri marchigiani Alla Tireno Adriatico Cioè stiamo parlando di un corridore che in una corsa da 5.000 metri di dislivello Era il favorito numero uno A distanza di sei mesi Lo abbiamo visto essere pimpante ma non pimpantissimo Su quel tipo di scalate lì Cioè c'erano dei corridori che gli erano oggettivamente superiori Eppure ha fatto vedere altre cose Cioè ha fatto vedere una capacità esplosiva Piuttosto che di scalata o di endurance o di resistenza Che è cresciuta notevolmente A me questo ha fatto venire in mente un corridore come Bettini Che nel 1998 Era un corridore che al secondo anno di professionismo Finiva decimo mi pare il Giro d'Italia Poi dopo andrò a controllare Perché fosse finito effettivamente decimo in classifica generale Mi sa che poi Secondo me è addirittura settimo Qualcosa del genere Ok Comunque Finì nei top ten Un Giro d'Italia Ed era un Giro d'Italia con tante salite C'è un Giro d'Italia che fu vinto da Pantani Per intenderci Da uno scalatore puro Purissimo Comunque Lasciava intendere che avesse delle qualità Delle doti di endurance Un corridore che a secondo anno di carriera Fa questa cosa Tevoli Guardate come si è evoluta la carriera Di Di Bettini E io Un pochino inizio ad avere Sul fracato ora da questa vittoria L'idea che la carriera di Alaphilippe Possa Evolvere in questo senso Sempre più verso l'esplosività E sempre meno verso l'endurance Nuda e cruda Quindi con questo Questo è quello che intendo Quando parlo di Bettinizzazione Proseguite da qui La volata in ogni caso Va presa per Ecco Secondo me è un altro Un altro equivoco Da Da cui dobbiamo sgombrare il campo Perché comunque la volata Va presa per Per ciò che è stata E' inutile Ma fa poco senso ragionare Su scenari Alternativi Se certe cose Si fossero fatte O se Altre Sero state evitate Alaphilippe è stato un grande Ha vinto la prima classica Monumento Noi dicevamo In passato Che si trovavano In un punto della carriera In cui era Arrivato il momento Di monetizzare E quindi Allora Filippo Mi hanno fatti tanti complimenti La volata della Sanremo Questo ha dato Interrogarsi È un bel diletto Però Alla fine Dobbiamo prendere Il risultato Ludo e crudo Risultato pazzo Di una corsa Che evidentemente È una corsa pazza Ma vogliamo dire una cosa Vogliamo dirlo Che la Sanremo L'ha vinto il corridore Nettamente più forte Sabato Perché questa cosa Non l'abbiamo detto È stata meritatissima La vittoria Della Filippo Ma assolutamente Assolutamente Allora Passi L'errore L'errore Tattico Di Sagan Dopo andremo sullo scatto Di Trentin Ai meno due Passi un Valverde Che magari Non aveva le gambe Per la volata Cioè Però Chi ha causato Quell'azione Chi è che ha avuto La forza Di fare quella selezione lì A quel ritmo lì Sul poggio La De Keunic E chi l'ha finalizzata Alla Filippo Assolutamente Assolutamente MVP Ma a mani basse Non solo perché ha vinto E attenzione Che De Keunic Si è preso Un bel rischio Figurati Quale fiducia Potessero avere Alla Filippo Ma Filippo Non dava garanzie Di vincere una volata In un gruppo ristretto Però facendo questa Qua hanno A questo punto Deliberatamente Tagliato fuori Viviani In una volata Di gruppo Magari Dava anche più garanzie Tra l'altro Infatti Io e Primo Inizialmente Abbiamo gridato All'orrore Quando abbiamo visto L'azione della Quickstep Della De Keunic Perché ci sembrava Inizialmente Sero lavorando Per Viviani In realtà Questi hanno Disintegrato Il poggio Alla Filippo è stato grandioso Nel finalizzare Poi quello che i compagni In precedenza Avevano fatto Credo che sia una Delle Sanremo Più meritate Degli ultimi anni Perché Difficilmente ricordo Una Sanremo Vinta dal corridore Nettamente superiore A tutti Mi ricordo Un corridore Nettamente superiore Agli altri Negli ultimi anni Ovviamente Sto parlando di Sagan Che però La Sanremo Non la vinse A vantaggio Poi di Kiatkowski Credo che quel Sagan Per superiorità Possa essere paragonato Alla Filippi Quest'anno Sì Non a caso Avevo parlato Di Introduzione di gambe Alla Sagan Perché Effettivamente In un certo senso Me l'ha ricordata La capacità Di fare Di fare selezione Prima in salita E poi dopo È stato ancora più bravo A portare a termine Il compito Supportato da Una squadra Che effettivamente È andata All in Cioè Come dicevi tu Vincenzo Dovevano credere Veramente tantissimo Nelle possibilità Del loro Del loro corridore Perché Quello che hanno fatto È stato creare Una selezione incredibile Sul poggio Che ha tagliato fuori Tutti I velocisti Noi siamo andati A fare un piccolo Preso conto Di cosa è successo Negli ultimi anni Quando si è arrivati In volata E Invece Quando ci sono stati Degli attacchi Che sono arrivati Fino al traguardo Come in questa occasione Quindi dal 2014 Al 2019 Tre volate In fila E poi dopo Tre attacchi Che sono arrivati In fila E Va detto Una cosa Che Se si vanno a vedere I video Ed è possibile farlo Si nota Che negli anni In cui Si è arrivati In volata La selezione Sul poggio È stata Scarsa Ci sono stati Scatti Solo negli ultimi Metri Di salita Nel 2014 Attacco Gregory Rasta Inizia salita Con Battaglin Poi ci fu Un mezzo A lungo Di Gilbert Ma di fatto Scollinarono In 35 Tutti insieme Nel 2015 Fu la Catiuscia A imporre il ritmo All'attacco Della salita Anche lì Un mezzo Attacco Di Gilbert Che però Desiste Subito C'erano già fuori Os e Thomas Van Aver Ma ti incontropiede Poi quando si ferma Gilbert Su cui chiusero Felline Sagan e Matthews Scollinarono Di fatto Tutti A tre metri Di distanza Uno dall'altro Quindi non ci fu Una vera e propria Selezione Anche perché Gli attacchi Arrivarono Vicini alla cima Del poggio E poco sostanziosi 2016 La situazione Pochino diversa Ma nemmeno più di tanto Perché prese in testa Il poggio La Sky Come ha fatto La Quickstep Quest'anno Però furono rilevati Subito Da Catiuscia E BMC Specialmente La Catiuscia Era una squadra Che aveva tutte le intenzioni A fare un ritmo regolare Sostenuto Ma non eccessivamente Ad accelerare Scattò Andrea Fedi Ci fu un breve Contropiede Di Gallopena Con Gatto E Kwiatosky Che chiusero Poi ripartì Kwiatosky Ai meno 500 metri Dalla cima Ma non guadagna nulla Perché prima Gatto A tenere la natura alta Per Sagan E poi Un'accelerazione Di Nibale Cancellara Di fatto Chiusero Su questa azione Negli ultimi tre anni Invece la Solfa È stata decisamente diversa Perché io ti chiedo Giacomo Possono andare Dieci uomini Perché vuoi mettere Il dito nella piaga Perché Non te l'ho chiesto In modo capzioso Te l'ho chiesto In modo appunto Come dire Propositivo Cioè È la corsa Per eccellenza In cui vale Quello che può sembrare Un luogo comune Che la corsa È fatta dai corritori Noi ne abbiamo parlato Anche in sede di preview Questa è una corsa Che è chiusa Fino al poggio Quest'anno c'è stata Un'incidenza della Cipressa Non ci dilunghiamo Però è una corsa Che effettivamente Fino al poggio È chiusa È chiusa allo spettacolo Ma perché è chiusa Al punto di vista Di ciò che si può fare Dal poggio Le squadre possono decidere Che cosa fare Questa è La bellezza del finale Della Milano Sanremo E in questo caso È anche una grandissima Vittoria Dello schema Relativo al disegno Del percorso Dell'asperità posta Non col traguardo in cima Ma posta in modo tale Che qualcuno Si possa interrogare Su che cosa fare Mettersi davanti A un'alternativa Nel momento in cui Quest'anno noi Abbiamo quasi La soluzione definitiva All'enigma Sanremo La Sanremo Come può concludersi È una domanda Che ci si fa tutti gli anni Ma la risposta È sempre la stessa Ci si può interrogare Prima che la Sanremo Si svolga Ma la risposta Sarà sempre Una risposta Aperta A 50 e 50 Le squadre possono decidere Di fare un ritmo Che nessun velocista Velocista con la V maiuscola Può tenere Oppure le squadre Possono avere Un interesse comune A salire regolarmente E a quel punto L'esito Nella Milano Sanremo Se non succede niente Nella volata Se nessuno dorme È un esito in volata Ogni anno Il canovaccio Sarà sempre Lo stesso Ogni anno Correrà Indagare Sulle intenzioni Che hanno le squadre Guardare gli anni precedenti Cioè guardare Quel futuro